La quarta ondata Covid avanza impietuosa in Abruzzo. Al momento sia il dato dell'incidenza del virus, sia quello riguardo il tasso d'occupazione ospedaliera in terapia intensiva, sono oltre le soglie della zona gialla. A mantenere l'Abruzzo senza restrizioni per ora è il solo numero dei posti letto occupati in area medica. Il Covid anche quest'anno rappresenta un ostacolo al regolare svolgimento delle lezioni scolastiche. A Pescara attualmente sono 22 le classi che hanno problematiche legate alla pandemia. Di queste 12 sono in didattica a distanza e 10 in quarantena. La situazione è stabile ad oggi, però bisogna tenere tutto sotto controllo. Noi stiamo facendo regolarmente i tamponi allo stadio tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Abbiamo aperto l'hub vaccinale per i bambini da 5 a 11 anni, dove c'è un'affluenza molto molto alta. Una cosa è certa, le vacanze di Natale non saranno prolungate. Lo ha detto questa mattina il Premier Draghi nel consueto discorso di fine anno. Il Presidente del Consiglio ha quindi bloccato in partenza la proposta dell'infettivologo Galli, che chiedeva di chiudere la scuola per fermare i contagi. Intanto prosegue la campagna vaccinale riservata ai bambini dai 5 agli 11 anni d'età. A livello psicologico per i bambini diventa sempre molto difficile. Hanno già vissuto un periodo molto lungo e speriamo che appena dopo le vacanze di Natale torni tutta la normalità.